Ciao amici di Che Cucino, bentrovati nella mia cucina. Oggi preparo un risotto con gambaretti e zucchine. Prima di tutto preparo l'acqua per il brodo, aggiungo il dado, poi nella padella metto l'olio extravergine di oliva e zucchine e gambaretti surgelati e un pizzico di sale. Quando i gambaretti sono quasi pronti metto il riso e aggiungo il brodo. Il risotto è pronto, a questo punto però aggiungo ancora un ingrediente. Per rendere il riso più appetibile per i bambini provo a fare degli involtini con delle fette di salmone. Dunque il risotto prima e gli involtini poi sono pronti. Grazie. Grazie. Grazie.